D-Landog Oldboy numero 12 Che casino Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del D-Landog Oldboy numero 12 Eccolo qui D-Landog Oldboy è uscito ufficialmente oggi, nel momento in cui sto registrando Siamo a venerdì 15 aprile 2022 Ed è uscito questo dodicesimo numero del Oldboy di questa pubblicazione bimestrale Che secondo me è tra le pubblicazioni di punta dell'indagatore dell'incubo Qui abbiamo come al solito due storie inedite complete In bianco e nero Il prezzo di 6,90€ E abbiamo queste due storie L'invasione degli ultraschermi Dottor Groucho e Mr. D-Land Ragazzi ve lo dico subito Per me questo D-Landog Oldboy Il mio giudizio complessivo è un ni Perché ci sono state delle cose che mi sono piaciute E altre decisamente meno Ma piano piano insomma vi parlerò di questo volume Con la copertina ovviamente di Paolo Baciliere e Giuseppe Montanari E la colorazione di Vincenzo Filosa Una copertina molto ma molto particolare e strana Già avevamo visto sul scorso numero Sullo scorso Oldboy numero 11 Che c'era appunto L'anticipazione della copertina Che per molti era particolare Per molti era bella Per altri no Per quanto mi riguarda Nutrivo dei dubbi E i dubbi sono stati confermati Dall'acquisto Insomma avendolo in mano ora La copertina si è particolare Con queste gabbie Con questa gabbia Quasi insomma come scatole cinesi Quasi ad essere tipo Dei videogiochi anni 80 Non lo so La copertina ci sono delle belle Ci sono delle cose belle Qui dei disegni comunque di D-Land Che spara questi zombie Questi mostri insomma Nella sua eccezione È una copertina diciamo Che ritrae La tradizione di D-Land Però è una copertina Che non lo so Non mi ha fatto impazzire Ragazzi se devo essere sincero Non mi fa impazzire Mi è piaciuta di più La copertina Dello scorso numero La sensazione è Che da quando hanno cambiato I copertinisti Cioè i Cestaro Sono passati Alla serie regolare Mentre qui abbiamo Bacillieri e Montanari Ci sono state delle copertine buone Ma questa qui sinceramente Benché sia molto particolare Non mi ha colpito particolarmente In quarta di copertina C'è il prossimo numero D-Landog Oldboy numero 13 In edicola Il 15 giugno Con due storie Il morso del cobra E cortesie per le vittime Ma io sono qui Per parlarvi di questo Numero Copertina Secondo me Anche qui è un ni Ovviamente la scritta gialla Di Landog Con rilievo nero La scritta bianca Due storie inedite Oldboy in bianco Con rilievo nero I due titoli In bianco Una copertina Diciamo abbastanza sufficiente Ma come detto Ci sono state delle cose positive E altre negative Per cui il mio giudizio Non è esattamente positivo Ma nemmeno tanto negativo Però ho visto copertine migliori Se devo essere sincero Apriamo Il nostro D-Landog Oldboy numero 12 Ci troviamo subito Il frontespizio Che come sapete Cambia nella parte superiore Per ogni storia La pubblicità Del sesto e ultimo appuntamento Con la serie inedita Di Tiziano Sclavi Racconti di domani L'ultimo lavoro Con Bonelli L'ultimo lavoro Di Landog Di Angelo Stano Io ho già letto Questo volume L'ho già portato sul canale Per chi non l'avesse visto Ci sarà qui Tra i consigliati Andiamo a leggere Insomma Chi ha lavorato Questo Oldboy Di Landog Oldboy numero 12 Aprile maggio 2022 Pubblicazione bimestrale Cura di Franco Busatta Supervisione di Tiziano Sclavi Roberto Recchioni La prima storia È L'invasione degli Ultraschermi Soggetto a sceneggiatura Luca Vanzella Disegni Giulio Camanni Lettering Riccardo Riboldi La seconda storia È un misto Tra i vari disegnatori Perché il soggetto La sceneggiatura Sono di Luigi Mignacco I disegni sono di Marco Nizzoli Pablo Cammello Vincenzo Filosa Francesco Cattani Luciop Sergio Algozzino Fabrizio De Tommaso Lettering Sempre di Riccardo Riboldi Copertina come detto Di Paolo Bacillieri Giuseppe Montanari Con la colorazione Di Vincenzo Filosa Passiamo subito Passo subito Parlarvi della prima storia Allora ragazzi La prima storia Se devo essere sincero Mentre la leggevo Non ero molto soddisfatto Poi l'ho rivalutata La grande Dopo aver letto la seconda Perché Come ben sapete Prima di ogni storia Dell'All Boy C'è l'introduzione Con gli autori Che in una sorta Di intervista Parlano della storia La storia La prima storia Insomma di Vanzella Luca Vanzella Dice che Praticamente Si è divertito Visto che Ci sono stati Miriadi di tipi Archetipi E maschere Per quanto riguarda Il nostro Indagatore dell'incubo Si è divertito A recuperare Il fantasma di Anna Nevere Gran Guignol Sicuramente Non è Un remake Di quelle due storie Ma Diciamo che Vanzella Si è ispirato molto Con le due storie Così come anche Il disegnatore Giulio Camanni Che l'ho sempre detto Ragazzi Giulio Camanni Questi sono i suoi volti L'espressività dei volti L'espressività C'è C'è Molto bravo Camanni Ma non mi fa impazzire Il suo tratto Se devo essere sincero Vi faccio vedere Dylan Ecco Dylan E praticamente La storia Ragazzi Di che cosa parla Questa storia L'invasione degli Ultrascherbi Vi dico subito Che entrambe le storie Sono abbastanza Nel multiverso Abbastanza Fantascientifiche Quando Dylan Va nei campi Della fantascienza Non mi fa impazzire Perché io non amo La fantascienza Io sono più per l'horror Il thriller Ovviamente Come ben sapete Però praticamente Qui vengono citate Anche Rocky Horror Picture Show Boris Karloff Il dottor Karloff Che sarà All'interno della storia Praticamente Come inizia la storia La storia inizia Con Dylan Che insieme Alla sua amica Jenny Si recano In questo posto Questo è praticamente Come detto anche Nella anticipazione È un delirante Elsa Poppin In cui la realtà Sembra risolversi Quando si scatena L'invasione degli Ultraschermi E si parla di cinema Di B-movie Esattamente Di film di serie B Cosiddetti film di serie B C'è il dottor Karloff Praticamente Dylan e Jenny Vanno in questo posto In cui ci sono Degli attori Che dovranno rappresentare Una Come dire Una rappresentazione teatrale Dylan e Jenny Sud si troveranno Ad avere a che fare Con dei personaggi sinistri Molto strani Tra cui questo dottor Karloff Che sembra essere Una specie di Produttore Ma anche di despota Perché comanda A bacchetta Tutti i suoi attori Si presenta qui Con questo corpetto Un po' strano Questo Karloff Che insomma Renderà la vita dura Sia a Dylan Che a Jenny Ma soprattutto a Dylan Se la prenderà con Dylan Poi tra l'altro Senza spoilerare Tanto sulla storia Ci sarà una storia Nella storia In cui sarà Dylan Ad essere il soggettista L'osceneggiatore Con i disegni di Karloff Che si chiama Spectra Vision E Terror Attack Praticamente la storia È un miscuglio Incredibile Di idee Soprattutto comunque La prima Delle due storie È più horror Rispetto alla seconda Ci sarà anche un po' Di Ci saranno Ci sarà Cioè Sarà un po' più horror Se devo essere sincero Ci sarà un po' più di azione Anche qualcosa Di splatter Però è una storia Ragazzi Un po' troppo Incasinata Per i miei gusti Anche se L'ho rivalutata molto Perché poi L'ho riletta Dopo aver finito Diciamo la seconda storia Ho riletto la prima E devo dire Che la prima Rispetto alla seconda È migliore Anche se Come detto Ragazzi C'è un po' di casino Diciamo che Vanzella Ha voluto mischiare Come detto Un po' Il Dylan Dog Di Fantasma Dania Never Un po' quello Di Gran Guignol I disegni di Camagni Anche se a me Il suo tratto Non fa impazzire Sono ben congeniale Alla storia Che ha voluto raccontare Vanzella Una storia Che farà contento Farà felici Soprattutto Gli amanti Dei film Dei b-movie E delle rappresentazioni Teatrali Come The Rocky Horror Picture Show Così dice anche Graziano Riga Prima della storia Confrontandosi Con Luca Vanzella Giulio Camagni Diciamo che A un certo punto Senza spoilerare Ovviamente Tanto sulla storia Dylan Come al solito Verrà preso Dalle sue paure La gente Insomma Questi attori Che sotto Karloff Se la prenderanno Con lui Questa cosa Insomma Mi ha preso Poi abbastanza Quindi devo dire Che la prima storia Nonostante Troppi intrecci Troppi casini Però Devo dire che Mi è abbastanza piaciuta Li do Diciamo Da 1 a 5 stelle Un 3 stelle e mezzo Sicuramente Quindi la prima storia Pur non essendo Esattamente Tanto Nelle mie corde Comunque Alla fine L'ho apprezzata Ma ho dovuto Leggerla due volte La seconda storia Invece Come detto È di Luigi Mignacco Un autore Ormai Che conosciamo bene Su Dylan Dog Perché ha scritto Parecchie storie Anche in passato La seconda storia Ragazzi Anche nell'introduzione Qui ne parlano Cioè soprattutto Mignacco Ne parla Insieme a I vari disegnatori Perché questa è una novità Per quanto riguarda L'Hallboy Ci saranno addirittura 7 disegnatori Che si alternaranno Nelle pagine Di questa storia E l'ho apprezzata Questa cosa Perché ci saranno Alcuni disegnatori Alcuni disegni Davvero Allora il primo A cimentarsi È Marco Nizzoli Che abbiamo visto Su Dylan Dog E mi piace molto Il suo Dylan Vediamo qui In primo piano Poi dopo Nizzoli Qui c'è una splash page Molto bella Dopo Nizzoli Ci sarà anche A pagina 104 Pagina 114 Lo stile cartoon Che me lo sono immaginato Già a colori Su un color fest Diciamo che Questi disegni Potevano magari essere Più adatti A un color fest Però vederli su L'Hallboy Mi ha in certo modo Sorpreso Ma mi sono piaciuti Un Dylan molto più cartunesco Da parte del disegnatore Cammello E poi c'è Filosa Da pagina 120 A 134 Diciamo Ci sono 15 pagine Per volta Pagine miste Tra i vari disegnatori Mi è piaciuto anche Filosa Insomma I disegni In se per sé Mi sono piaciuti I disegni sì Perché sono molto variegati Alcuni anche cartuneschi E diciamo Che i vari disegnatori Che si sono alternati Nota di merito Soprattutto per Sergio Algozzino Mi sono segnato Qualche tavola sua Cioè Magari Era 177 Vediamo se riesco A trovarla subito Ho apprezzato molto Questa cosa Dei vari disegnatori Vediamo Dylan Qui nella rabbia Bellissimo Il disegno qui Di Algozzino E lo stesso Algozzino Qui Qui viene anche citato Alla copertina Del lungo addio Vediamo se riesco A trovarla Pagina 186 Quasi verso la fine Ragazzi Non temete Non spoiler Allungla Sulla storia Qui Algozzino Cita la copertina Del lungo addio A pagina 186 Insomma ragazzi Mi è piaciuta molto Questa cosa Della alternanza Tra i vari disegnatori Questa cosa qui L'ho apprezzata Ma la storia Di Luigi Mignacco Non mi ha colpito Ragazzi Non mi ha colpito Ci sono delle cose positive All'interno della storia Nel senso che Qui praticamente è una storia Che si svolge nel Nel multiverso C'è proprio una ridda Di scontri Di seguimenti Di fughe Senza fine In un multiverso Molto labirintico Dr. Graucio E Mr. Dina Nel titolo Perché Graucio E Dylan Saranno protagonisti E diciamo che Sarà una storia Abbastanza Fantacentifica Visto che sia Nel multiverso Ma questo Non mi ha soddisfatto Appieno Perché Le storie così Troppo intricate Hanno bisogno Di una rilettura Io l'ho anche riletta Però devo dire Che tra le due storie Tra l'invasione Dell'ultraschermi E Dr. Graucio E Mr. Dina Alla fine Ho apprezzato più La prima storia La seconda No Devo dire di no Ho apprezzato molto Le tavole Così Ovviamente Con questo riferimento A lungo addio Che è stato Secondo me Da parte di Algozzino Una Come dire Una genialata Però in sé per sé Se devo dare Un voto complessivo Ho detto Ragazzi Per me questo è un nì Questo Dylan Dove Oldboy Numero 12 È decisamente un nì Ci sono state delle cose Che mi sono piaciute La prima storia In sé per sé Nonostante l'abbia riletta Mi è piaciuta Ma i disegni di Camanni Non tanto La seconda invece Al contrario Mi sono piaciute Più i disegni vari Tra cui Citerei ovviamente Algozzino Soprattutto Filosa Ma anche Cammello I disegni vari Mi sono piaciute Molto Ma la storia Un po' meno Perché è un po' Troppo incasinata Troppe Non lo so ragazzi Quando ci sono queste storie In altri In altri mondi Multiversi Benché Possono essere apprezzati Da chi ama Le storie Un po' Fantascientifiche A me Non ha fatto impazzire Per cui Il mio giudizio Complessivo È un ni Il mio voto Complessivo È una sufficienza Un 3 stelle su 5 Se devo essere sincero Ho letto Dei Dylan Dog Oldboy Migliori Rispetto a questo Compreso la copertina Che nonostante sia molto particolare Come detto Non mi ha colpito particolarmente Secondo me Ci sono state Delle copertine Migliori A chi consiglio Questo Dylan Dog Oldboy Sicuramente A chi ama Le storie Con la fantascienza In Dylan Chi ama le storie Con il multiverso Chi ama le storie Un po' più intricate Che hanno bisogno Magari di Di più riletture Ma Diciamo che In questo Dylan Dog Oldboy Horror vero e proprio Non ce n'è Ce n'è Nella prima storia L'invasione degli ultraschermi Di Vanzella Ma nella storia La seconda storia Quella di Mignacco È una storia Un po' più Come detto Ragazzi Mi va di usare ancora Questo termine Più incasinata Per cui Il mio giudizio Non è Positivo Ma non è nemmeno negativo Perché ci sono delle cose Che mi sono piaciute E altre no Ovviamente ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se avete acquistato questo numero Di Lian Dog Oldboy Numero 12 Se vi è piaciuta la copertina Se vi sono piaciute le storie Qual è stata la storia Che vi è piaciuta di più Tra la prima e la seconda Io ovviamente Sono qui per rispondere Ai vostri commenti È sempre un piacere Vi ringrazio Per aver visto il video Vi ringrazio Per il supporto Che mi date Sempre Scusate Ne approfitto anche Per augurarvi Una buona Pasqua Visto che mancano Soltanto due giorni a Pasqua Il 17 Domenica sarà Pasqua Noi siamo al 15 Quindi Una buona Pasqua E Pasquetta A tutti Mi raccomando Divertitevi E fate i bravi Grazie ancora Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi